Su delega della Procura della Repubblica di Catania, militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale nei confronti di otto persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di furto, ricettazione, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, e condotta dai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, nell'arco temporale compreso tra l'agosto del 2019 e il gennaio del 2021, ha consentito di circostanziare la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti degli appartenenti ad un gruppo criminale che sarebbero autori di una lunga sequela di reati predatori che nella maggioranza dei casi erano destinati ad alimentare un mercatino dell'usato catanese, meglio noto come mercatino delle Pulci. L'indagine trae origine dall'arresto di Manolo Caponetto per un furto commesso all'interno di un'abitazione ubicata a Mascaluccia, non chiede la sua decisione di supportare l'attività investigativa fornendo indicazioni sul suo complice e sul ricettatore della refurtiva, Ignazio Giovanni Tomaselli. L'indagine, articolatasi con il supporto di attività tecniche corroborate da videoriprese e attività di osservazione, controllo e pedinamento, ha evidenziato come l'operatività del gruppo criminale fosse concentrata soprattutto nei comuni di Catania, San Pietro, Carenza e dell'Interland etneo in generale. Il provento dei furti sarebbe servito per alimentare la bancarella ubicata nel famoso mercato delle Pulci di Catania, gestita da Mario Tomaselli, padre di Ignazio Giovanni. In particolare, gli indagati, al fine di compiacere o per ottenere da quest'ultimo dosi di sostanza stupefacente, sarebbero stati soliti procacciare specie di volatili protetti e anche ornamenti comunali, quest'ultimi sottratti alla Municipalità di San Pietro Clarenza e che sono stati successivamente utilizzati dagli indagati per abbellire un complesso popolare di viadone nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania. È emerso altresì che in talune occasioni gli obiettivi da depredare sarebbero stati calveggiati a Ignazio Giovanni Tomaselli da uno degli oderni indagati, in quel momento ristretto presso la casa circondariale di Termini Merese, ma comunque in possesso illecitamente di un telefono cellulare. Tomaselli, poi, seppur ristretto ai domiciliari, sarebbe riuscito, con l'ausilio del padre Mario e della moglie, a gestire dalla propria abitazione una fiorente attività di spaccio di cocaina con un introito medio di circa 300 euro giornalieri attraverso cessioni effettuate dal proprio balcone. In alcuni casi, a garanzia del debito scaturito dalle cessioni della sostanza stupefacente, Tomaselli avrebbe trattenuto la carta del reddito di cittadinanza o la poste pay dell'acquirente, da cui, a titolo di penale dovuta al ritardo nei pagamenti, avrebbe prelevato indebitamente somme di denaro. Nel corso dell'attività, tra la copiosa refurtiva recuperata, spiccano anche alcune tartarughe di terra, il rinvenimento di un fucile calibro 12 e di un piccolo quantitativo di cocaina e marijuana. Il GIP ha disposto la custodia in carcere per quattro indagati e l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per altri quattro.